La mia azienda è presente a Bricodei 2017 perché penso che sia un punto di incontro molto importante per incontrare i buyer italiani e per capire con delle relazioni come si sta muovendo il nostro mondo e quindi penso che sia un punto di visibilità molto molto importante. Noi come IPR facciamo parte da tre anni del consorzio Made for DIY, come gruppo penso che sia molto importante perché dà la possibilità di crescere il nostro network, di scambiarci delle informazioni e di fare un po' fronte comune come produttori nel mondo del DIY non solo a livello nazionale ma anche a livello internazionale. IPR sono sicuro che tornerà a esporre a Bricodei.